Tornati a Tg2, punto di vista. Rischiare la vita per un'idea, un'idea di giustizia, un'idea di libertà, un'idea senza la quale la vita non sarebbe più vita. Allora si va avanti, passo dopo passo, a fronte alta. Le minacce scivolano addosso e si rischia, così come hanno rischiato in passato tanti italiani caduti nei cosiddetti anni di piombo. E si rischia anche quando sarebbe più facile, molto più facile, fare macchina indietro. Quella che vogliamo raccontarvi questa sera è la storia dei due parlamentari impegnati su fronti diversi, due parlamentari comunque nel mirino. Vi presento l'onorevole di origine marocchina Suad Sbai, deputata del Popolo della Libertà. Buonasera. Buonasera. E buonasera a Pietro Icchino, gius lavorista, senatore del Partito Democratico. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito, sono subito da voi, vediamo prima però la nostra copertina firmata da Roberto Chinzeri. Piero Icchino e Suad Sbai siedono in Parlamento, eletti nei due schieramenti opposti, lui PD, lei PDL. Nella vita condividono un destino, entrambi sotto scorta, persone libere, costrette di una esistenza blindata per le minacce dei terroristi. Suad Sbai nasce in Marocco, dirige un mensile per le comunità arabi in Italia ed è presidente dell'Associazione Comunità Marocchina delle Donne in Italia. Da sempre impegnata ad attaccare pratiche barbare come l'infibulazione e da difendere la dignità della donna contro ogni imposizione fosse anche il velo. Da mesi al centro di una campagna d'odio, lei, musulmana, riceve le minacce numerose degli estremisti islami. E allora, onorevole Sbai, lei è stata protagonista di tante battaglie in favore delle donne islamiche. Noi del Tg. Lione abbiamo già parlato in passato, ma vale la pena insistere. Qual è la condizione delle donne in quei paesi musulmani, a cominciare dall'Afghanistan? Ma io comincierei intanto dall'Italia. La situazione delle donne musulmane in Italia, donne magribine, donne che arrivano nel nostro paese per congiugimento familiare. E la loro condizione è drammatica. Io vedrei più quello che succede qui. Cosa vuol dire drammatica? Donne che non vivono, non partecipano né alla vita sociale né economica di questo paese, donne che non entrano in quella casa e non escono più dopo 3-4 anni, non sanno neanche l'indirizzo di dove abitano, non sanno fare un numero di telefono, non hanno un rapporto con nessuno. donne sequestrate, donne rinchiuse, donne poi lasciamo perdere le violenze, che solo in un paio di anni sono morte 35 donne, sgozzate. Una è Hina, però Hina ha fatto più scalpore in modo come è stata interrata, ma ci sono state tante altre morte che nessuno ne parla, nessuno ne ha parlato. Ecco appunto, questo volevo chiedere, se ne parla abbastanza si può fare di più? Bisogna parlarne di più, non bisogna avere paura, bisogna parlare di più. Molti giornalisti ultimamente sono stati querellati da alcuni estremisti per tacere e stanno purtroppo, molti non parlano più e questo è un peccato perché bisogna continuare a parlare di queste donne. Non si parla male della religione, si parla purtroppo dell'estremismo che ha avanzato nel nostro paese, che ha avanzato e continua ad avanzare. Parlare d'accordo, ma in termini legislativi? Bisogna fare qualche cosa, bisogna controllare questi centri religiosi che sono ormai imam fai da te che ogni giorno creano e alimentano odio verso anche la seconda generazione e questa è la mia preoccupazione. Già la prima un po' l'abbiamo persa, ma la seconda non dobbiamo permettere. A proposito degli imam, lei è stata più volte oggetto di più di una fatua, le fatue sono delle vere e proprie condanne a morte, questo a causa del suo impegno, è così? Ma è quello, io vedo le mie colleghe che lavorano veramente in Afghanistan oppure in altri paesi arabi, fanno il mio lavoro e non hanno paura, non è la fatua che ferma la volontà e la voglia di chiedere la civiltà, questo noi non facciamo altro che chiedere il diritto dalla donna e un po' di civiltà, perché queste persone non pensano a questo, vogliono portare un pensiero radicale che non ha niente a che vedere con l'Islam e lo stanno facendo più in occidente che nei paesi arabi, ma sta avanzando più da noi. Bisogna bloccarli. Io non ho paura perché molti colleghi miei, ecco, che questo mi conforta, lavorano su queste tematiche, nell'associazionismo femminile, alcune addirittura hanno 86 anni e ancora continuano la loro battaglia. Sono in un paese civile, non dovrei avere paura di nessuno. Onorevole Sbai, lei in un'intervista alla stampa di qualche giorno fa ha detto qualcosa di molto importante, di molto forte, lei ha detto che i veri estremisti sono qui in Italia, finora hanno deciso che non è necessario far scorrere il sangue, ma prima o poi questo equilibrio potrebbe incrinarsi, allora ci saranno i morti, morti anche italiani. Perché ha detto queste cose? Perché fino ad oggi lavorano più all'estero, l'Italia serve come punto di riferimento, basta vedere quanti terroristi sono andati, partiti dall'Italia, partiti da Milano, partiti in altri paesi per fare attentati e quanti terroristi stavano tornando, ecco, come quello inglese stava tornando in Italia per cercare il rifugio dai gruppi che sono in Italia. Purtroppo è la realtà, il momento che non gli interesserà più questo territorio è il momento che saranno più aggressivi, anche se già ci sono gruppi aggressivi che aspettano il momento giusto. Hai subito molte minacce? Non mi preoccupano le minacce, vedo tanta sofferenza e quando uno incontra tanta sofferenza non vada a le minacce, tanta violenza, veramente donne infubulate, donne massacrate, donne, insomma, alla fine la paura passa. Cosa manca invece? Io passo 14 ore dentro alla camera, purtroppo, non manca niente, vivo con queste donne, abbiamo il centro di accoglienza dove ci sono tante donne, tanti bambini, devo dire il mio tempo lo passo lì, lo passo alla camera, poi lo passo… Certo, manca, ecco, quello che il mio sogno sarebbe, domani non ci saranno più queste violenze e ci liberiamo di questi personaggi, portiamoli via da qua perché non fanno altro che creano danni, continuano a creare danni, secondo me qualcuno li deve fermare. Ed è un po' il sogno di tutti, è il sogno di tutti noi. Una risposta secca, avete mai pensato, ma chi me lo fa fare? Qualche volta, qualche volta, e poi, come le ho detto prima, vediamo tanta sofferenza che poi ci fa andare avanti. E lei? Chinare la testa, rinunciare a scrivere, a parlare, questo è proprio… non si può. I terroristi sono in fondo dei mafiosi, vogliono spaventare, colpire uno perché tacciano in cento, non si può accettare questo. E poi non bisogna morire tutti i giorni? Assolutamente. Grazie all'onorevole Sbai, grazie al senatore Richino, grazie a voi per essere stati con noi anche questa sera. Tg2 Punto di Vista torna domani. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.